Ehi, ma è la A, la B o la A? È la B o la B? Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quel lurido stronzo comunista che è da compilare, che ha firmato la sua condanna a morte? Ah, non è nessuno, eh? Sarà stata la fatina buona del cazzo, vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio reggere i muscoli al buco del culo, che ci potrete segnare in latte senza caduccia?